Tutte le strutture che compongono i reni possono essere colpite da malattie che in un periodo di tempo più o meno lungo ne danneggiano la sua funzione, riducendo così sia la capacità di eliminare normalmente scorie, sali ed acqua, sia la funzione di produrre ormoni. Una pressione arteriosa elevata, quindi una situazione di ipertensione o una situazione di diabete, possono danneggiare fortemente i reni, ma ci sono anche malattie che colpiscono esclusivamente i reni, quali per esempio le infiammazioni dei glomeruli o delle malattie che colpiscono le vie urinarie, con per esempio la calcolosi, oppure ancora malattie ereditarie, quali per esempio la malattia renale policistica. Le malattie che interessano il sistema urinario e quindi fondamentalmente i reni possono comparire a qualsiasi età. Si parla di insufficienza renale quando i reni non riescono ad assicurare il normale allontanamento delle scorie o la normale composizione dei fluidi corpori. L'insufficienza renale può instaurarsi in pochi giorni, in questo caso si parla di insufficienza renale acuta ed è dovuta fondamentalmente a malattie renali acute, a shock, a complicazione della gravidanza o si manifesta a seguito dell'utilizzo di farmaci nefrotossici. L'insufficienza renale determina un blocco renale da cui comunque si può facilmente guarire. L'insufficienza renale cronica è invece legata a malattie renali croniche che non guariscono, si instaurano spesso in maniera silente e danneggiano i reni progressivamente nel corso degli anni. Quando i reni perdono quasi completamente la loro funzione, l'organismo si intossica, in quanto le scorie, i sali e l'acqua si accumulano e quindi possono determinare un insieme di disturbi chiamati uremia. Tra questi disturbi si identificano situazioni di stanchezza, nausea, vomito, situazione di ipertensione, pericardite, si può determinare un edema polmonare, l'alterazione del ritmo cardiaco, eccetera. Se non adeguatamente trattata, l'uremia ha un decorso progressivo e può condurre al decesso del paziente per diverse complicazioni. Quando non si può ottenere la guarigione di una malattia che compromette progressivamente la funzione renale, si può comunque rallentare la sua evoluzione e ridurre i danni causati all'organismo. Nei casi meno gravi è possibile attuare la cosiddetta terapia conservativa, caratterizzata dal fatto che alcuni farmaci, la dieta e il controllo ottimale della pressione arteriosa, possono favorire il mantenimento di una funzione renale sufficiente a svolgere una vita normale anche per diversi anni. In altri casi, invece, è necessario intervenire con una terapia sostitutiva rappresentata dalla dialisi. La terapia conservativa prevede quindi un'apposita dieta che prevede una riduzione delle proteine e dei fosfati, un minor consumo di grassi animali, di sodio, di potassio e un limitato apporto calorico. E' inoltre opportuno consultare il nefrologo prima di prendere nuovi farmaci perché alcuni di questi, in particolari alcuni antidolorifici, venduti anche senza ricetta medica, possono risultare dannosi per il rene. Per altri farmaci è importante che la dose venga adattata a quella che è la oramai ridotta capacità del rene di poterli eliminare dall'organismo. E' importante anche l'abolizione del fumo. Quando la funzione renale è particolarmente ridotta, il nefrologo, assieme al paziente, concordano quale tipo di terapia iniziare per sostituire la funzione dei reni malati. I nefrologi sono concordi nel considerare la dialisi peritoneale, l'emodialisi e il trapianto renale come le opzioni diverse ma strettamente integrate nel trattamento dell'insufficienza renare, che possono o devono essere adottate in momenti successivi della vita della persona secondo un programma personalizzato. La dialisi è un trattamento attraverso il quale il sangue di una persona intossicata dall'uremia viene pulito mettendola a contatto attraverso una membrana con un liquido, che prende il nome di soluzione di dialisi, all'interno del quale passano le scorie, i sali, l'acqua, che debbono essere eliminati. Mentre dal sangue vengono assunte sostanze necessarie a correggere l'eccessiva acidità del sangue. Esistono due diversi tipi di dialisi, la dialisi extracorporea e la dialisi peritoneale. Nell'emodialisi extracorporea si punge con un ago un vaso di un braccio, così come quando si fa un prelievo di sangue per le analisi, e si connette l'ago con un tubicino che porta il sangue al filtro di un apparecchio, che rappresenta, in questo caso, il reno artificiale. All'interno del filtro il sangue scorre, separato dal liquido di dialisi, da una membrana sintetica, permeabile solamente alle scorie. In questo modo queste ultime passano dal sangue al liquido di dialisi insieme all'eccesso di acqua filtrata dal sangue. Il sangue in questo modo viene depurato e ritorna, scorrendo all'interno di un altro tubicino, al paziente, attraverso un altro ago inserito in un vaso del braccio. Il liquido di dialisi, a questo punto, viene eliminato, allontanando così dal paziente l'eccesso di acqua e le scorie del metabolismo. La seduta di dialisi dura generalmente un paio di ore, circa 4 ore, e viene svolta 3 volte alla settimana. Durante la seduta emodialitica sono possibili il calo della pressione arteriosa o dei crampi. Nelle ore successive al trattamento, invece, frequenta la sensazione di stanchezza. Per quanto riguarda invece la dialisi peritoneale, il passaggio delle scorie dal sangue al liquido di dialisi avviene attraverso la membrana, detta peritoneo, che riveste gli organi contenuti nella cavità addominale. Il liquido di dialisi sterile viene emesso nella cavità peritoneale per gravità attraverso un catetere che collega la cavità peritoneale con l'esterno. Le scorie, quindi, passano dal sangue dei capillari sanguigni del peritoneo, dove sono presenti anche in elevata concentrazione, al liquido di dialisi, dove in questo momento non ci sono scorie. Il liquido viene, quindi, drenato per gravità dalla cavità peritoneale all'interno di una sacca vuota posta in basso, portando con sé tutte le scorie. Si cambia, quindi, la sacca e vengono utilizzati altri due litri di liquido sterile che vengono emessi nella cavità peritoneale. Il trattamento con la dialisi, in genere, si inizia quando la clarence della creatinina è scesa al di sotto dei 7 mm al minuto. Al di sotto di questo valore iniziano, infatti, a comparire i sintomi dell'uremia. Compaiono anche delle gravi complicanze che possono mettere in pericolo la vita del paziente, quale un accumulo di acqua e sale con formazione di edemi, scompenso cardiaco, aumento della potassemia, eccetera. In presenza di alcune malattie, come il diabete, o in presenza di una grave ipertensione arteriosa o di una potassemia elevata, diventa necessario anticipare l'inizio della dialisi, quando i valori di clarence della creatinina sono circa di 10 ml al minuto. La dialisi è praticata per tempi brevi, in attesa della guarigione, nei pazienti affetti da insufficienza renale acuta, il cosiddetto blocco renale. Invece viene praticata per tempi anche lunghissimi nei pazienti che manifestano una insufficienza renale cronica. Molti pazienti rimangono addirittura in dialisi per il resto della loro vita, a meno che non sia possibile praticare il trapianto di un rene. Il trapianto renale è la migliore terapia per il paziente uremico, in quanto costituisce la modalità più completa di terapia sostitutiva della funzione renale. Infatti, attraverso il trapianto si corregge l'insufficienza renale meglio della dialisi perché svolge tutte le funzioni di un rene normale. Ad ogni paziente si trapianta un solo rene, che risulta sufficiente a svolgere una normale funzione renale. In genere non si tolgono i reni malati, per cui il paziente avrà tre reni, ma solamente quello trapiantato sarà quello funzionante. Il rene da trapiantare può essere prelevato da un donatore vivente o da un donatore cadavere. La legge italiana permette con l'autorizzazione del giudice il trapianto tra consanguini, cioè genitore, fratello, figlio, ecc., e tra soggetti non consanguinei, ad esempio il coniuge, parenti acquisiti, amici, possono fungere da donatori di reni viventi. L'eventuale donatore viene studiato per valutare la compatibilità con il ricevente ed escludere possibili conseguenze negative sulla sua salute e su quella del ricevente. Questo trapianto può essere effettuato anche prima che la persona malata inizi la dialisi. Il trapianto da donatore deceduto invece viene effettuato di norma dopo un periodo di dialisi. Il rene può essere prelevato dal cadavere a cuore battente di persone vittime di incidenti mortali o decedute per lesioni cerebrali in assenza di altre malattie. Una commissione accerta l'avvenuta morte cerebrale secondo criteri molto precisi fissati dalla legge e autorizza quindi il prelievo degli organi. Il numero di organi da donatore deceduto non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste ed è pertanto necessario iscriversi in un'apposita lista di attesa. Quando l'organo è disponibile viene individuata tra le persone in lista di attesa quella più adatta a ricevere quell'organo in base appunto alle caratteristiche del donatore e del ricevente ed in base anche alla compatibilità tra le loro cellule. La persona selezionata viene convocata dal centro trapianti il quale dopo un definitivo controllo clinico di idoneità provvede a effettuare l'intervento. La persona con un trapianto funzionante non deve più effettuare la dialisi e può quindi essere molto più libera nella gestione della propria vita. Deve tuttavia sottoporsi ai vari controlli consigliati dal centro trapianti ed assumere scopolosamente tutte le medicine prescritte per evitare il rigetto dell'organo trapiantato. Infatti l'organismo riconosce come diverso il nuovo rene ed è necessario assumere dei farmaci che riducono la capacità di reazione del sistema immunitario. Bisogna inoltre controllare spesso la regolarità del funzionamento del rene e riferire in maniera tempestiva al nefrologo l'insorgenza di qualunque problema di salute. Non esiste alcuna garanzia in merito all'efficacia del rene donato o alla durata dell'efficacia di tale rene. Tuttavia le probabilità di un esito positivo sono estremamente alte. Se la funzione del nuovo rene diventa insufficiente è purtroppo necessario riprendere la dialisi e sottoporsi agli accertamenti necessari per potersi reiscrivere nella lista d'attesa per un secondo trapianto. I trapianti da donatori viventi fanno registrare notevole successo. L'intervento chirurgico sul donatore può essere eseguito come intervento chirurgico aperto tramite un'incisione sotto le costole oppure come intervento laparoscopico che comporta incisioni molto più piccole nell'addome e l'uso di una telecamera per guidare la rimozione del rene. L'intervento chirurgico in laparoscopia sta diventando sempre più comune e rende l'asportazione del rene dal donatore una procedura di gran lunga meno traumatica. La convalescenza dopo l'intervento è più breve. I donatori possono essere dimessi dall'ospedale dopo 2-4 giorni dall'intervento e di solito possono riprendere il lavoro a distanza di un mese da tale intervento. Occorre comunque evitare il sollevamento di oggetti pesanti per più di un mese. Il tradizionale intervento chirurgico aperto invece richiede una maggiore degenza in ospedale per circa una settimana e anche in questo caso bisogna evitare di sollevare oggetti pesanti per diversi mesi.